E' sicuramente più bella ma soprattutto più romantica e scenica la nuova riqualificazione che ha interessato la cavia del Lido lasciata un po' a se stessa nel corso degli ultimi anni. Da ieri sera, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, la struttura è rinata dopo l'intervento alle travi in legno e l'installazione di nuovi fari a LED. Di luci nuove architettoniche che naturalmente vanno ad evidenziare sia tutto quello che è la passeggiata all'interno ma anche l'area dell'anfiteatro. Quindi per approfondire e esplorare anche delle zone che magari prima erano in ombra vuole essere una vera e propria riaccensione dopo un periodo così lungo di buio come quello che abbiamo attraversato. Oltre a questo è stata fatta anche una riqualificazione di carattere vegetativo, abbiamo tolto i pitospoli che erano diventati un ricettacolo di immondizie oltre che proprio ostacolare la bella vista del mare e abbiamo anche migliorato l'arredo con delle nuove panchine per cui mi sento di dire che abbiamo restituito alla città un luogo prestigioso. Inoltre proseguono spediti anche i lavori al sottopasso di Viale Cairoli, recentemente chiuso per i lavori di sicurezza e ammodernamento dopo le numerose segnalazioni dei cittadini. Tra gli interventi una nuova pavimentazione, la pulizia delle mura, nuova illuminazione di ultima generazione e una sorpresa realizzata dagli studenti del liceo Nolfi a Polloni. Naturalmente questa riqualificazione continua, tanto che sabato andremo poi a inaugurare anche quello che è il sottopasso Lido con sabato pomeriggio proprio alle 6, anche lì con un coinvolgimento della città tutta proprio perché abbiamo voglia di cambiare insieme tutto quello che è l'aspetto della nostra città. Grazie. Grazie.